Torniamo in diretta dal Cirigliano ancora per proporvi la prima corsa sostituzione di ruota a Don Lurio e adesso gli otto concorrenti stanno per entrare nei nastri secondo tentativo che viene convalidato Don Lurio fuori corsa ha sbagliato Dingo LC si è rimesso a metà gruppo e De Aneris Mabel a comandare le operazioni 200 metri in 16 scarsi Dinamite Getti in seconda posizione ripete l'errore Dingo LC terza per Damerino Leone che precede Doricus poi più dietro Drupi Ferm e David Loppi 32 e qualche spicciolo il quarto iniziale per la Nadal Sheba di Mario Minopoli che poi va a completare i 600 in 49 e mezzo si va praticamente da treno 16 e mezzo ogni paletto fino a questo momento e anche quest'altro successivo giro di pista in 1'6 e mezzo De Aneris Mabel adesso comincia ad allungare con una frazione in curva in 16 scarsi primo chilometro in 1'22 e 3 muove Drupi più ferma che va a caccia dei primi e raggiunge Dinamite Getti in seconda posizione trascinandosi David Loppi 15 gli ultimi 200 metri Drupi Ferm arriva all'altezza del Salchi della battistrada curva in 15 e mezzo De Aneris Mabel incalzata da Drupi Ferm nella cui scia c'è David Loppi seconda posizione alla corda per Dinamite Getti terza per da Merino Leone Miglio in 2-8 scarsi allunga De Aneris non scabbia per il momento Dinamite Getta adesso c'è lo spazio Magallo non si muove ingresso in retta d'arrivo De Aneris Mabel in vantaggio ci prova adesso Dinamite Getta raggiunge De Aneris ci prova ma De Aneris si allunga e va a concludere sulla stessa Dinamite Gett terzo posto per David Loppi e quarto per Da Merino Leone 2-38 sul mio cronometro c'è un bel 16 per l'ultimo chilometro per la vincitrice De Aneris Mabel una figlia di Nadal Sceba e Unic Rivarco del signor Saverio Cortese team Minopoli al training Mario Minopoli in Salchi Salchi di Aneris di Aneris di Aneris di Aneris